40 grafiche tra serigrafie, incisioni, litografie e stampe calcografiche a firma di 24 grandi autori del Novecento. A chiusi i battenti, registrando un ottimo afflusso di visitatori, la collettiva esposta a potenza nella Cappella dei Celestini, inaugurata lo scorso 2 marzo e prorogata fino a ieri dal titolo Grafiche d'autore, un omaggio alle donne, curata da Monsignor Vita Antonio Telesca e promossa dalla sezione potentina del CIF, Centro Italiano Femminile, con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo e dell'amministrazione comunale del capoluogo. Abbiamo avuto un grande riscontro col pubblico, molte le associazioni femminili, soprattutto l'Innerwill, l'Ande, la società Dante Alighieri, hanno raccolto il nostro invito a visitare la mostra e siamo molto orgogliose di aver promosso questa mostra in occasione dell'inaugurazione dell'anno sociale del CIF, perché il nostro anno sociale parte l'8 di marzo, in coincidenza con la giornata internazionale dei diritti della donna. E quindi, diciamo, quest'anno siamo partiti con questo botto, diciamo. Opere di arte grafica per la prima volta esposte al pubblico e tratte dall'ampia e preziosa collezione privata di Monsignor Telesca. Non ho mai dimenticato questo itinerario mio spirituale della bellezza dei quadri. Queste litografie, serigrafie e incisioni le ho avute dai grandi artisti di Milano. Ho voluto fare questa mostra proprio per l'omaggio alle donne, ma soprattutto per ricordare le stragi delle donne da parte degli uomini. L'uomo che uccide una donna, una moglie, è un fatto drammatico. Pensare a queste belle donne, pensare a quelle donne che sono state massacrate dai propri mariti. Insomma, dobbiamo domandarci qualcosa che dobbiamo fare, che cosa dobbiamo fare perché non accade più questa storia. Una selezione di grafiche d'arte di grandi nomi del panorama internazionale, tutte dedicate all'universo femminile, in un'intrigante dialettica tra sacro e profano, più di un pezzo forte in mostra e basti giusto qualche esempio. Questa mostra è intitolata Omaggio alle donne, è una collettiva di grafiche d'autore, che unisce degli autori dai più grandi nomi del panorama internazionale, come Remo Brindisi, Domenico Cantatore, Renato Guttuso, Trento Longaretti. È una mostra curata da Don Vito Telesca ed è un'iniziativa che è tutta dedicata chiaramente alle donne. Abbiamo in mostra delle cromolitografie anche di Francesco Messina, di Aligi Sassu, di Ernesto Treccani. C'è in mostra anche l'unica donna qui che abbiamo in mostra interessante, Felicità Frai, che è stata una delle artiste tra le più importanti del panorama artistico degli anni 40, ha frequentato anche lo studio di Giorgio De Chirico ed è conosciuta come la pittrice delle donne, perché ha realizzato nella sua vita circa 100 ritratti femminili, 100 un po' quanto gli anni fino a che viste, perché è nata a Praga nel 1909 ed si è spenta a Milano nel 2010. Giorgio De Chirico, questa è un'incisione che è naturalmente dedicata al tema delle muse inquietanti, che è sostanzialmente il tema forte della metafisica di De Chirico. Questa è anche un'altra opera importante, una serigrafia sull'astra d'argento di Francesco Gentilini. Questa è una prova d'autore di Giacomo Manzù è un'incisione, è un'opera degli anni 80 intitolata Penelope ed è sostanzialmente rifinita a mano, numerata e firmata dall'artista. Salvatore Fiume, questa è una serigrafia su alluminio e riprende il famoso dipinto, la gioconda africana che è conservata nei musei vaticani.